Salve a tutti, sono Sara. Oggi insieme vedremo qualche esercizio utile per rinforzare la muscolatura delle labbra. Procuratevi una pallina realizzata con la carta di alluminio, un cucchiaino e una menna. Iniziamo la ginnastica per la muscolatura delle labbra prendendo l'aria dal naso, tenendo come sempre le labbra chiuse per rinforzare il sigillo labiale. Quando le guance saranno piene di aria, l'aria compirà un giro di 360 gradi, passando da in alto, a destra, in basso e a sinistra. E ripeteremo il giro qualche volta. In alto, a destra, in basso e a sinistra. Poi prendiamo il cucchiaino e lo mettiamo tra le labbra. Metteremo la pallina sopra il cucchiaino, cercando di tenere il cucchiaino in posizione orizzontale. In questo modo alleneremo la tonicità delle labbra. E infine prenderemo la penna e la metteremo tra il naso e il labbro superiore, cercando di tenere la posizione il più a lungo possibile. In questo modo tonificheremo le labbra e lavoreremo sulla capacità di controllare la posizione del cucchiaino prima e della penna dopo. Questi esercizi sono da ripetere ogni giorno davanti allo specchio. Spero che questo semplice contributo possa esservi utile e vi saluto ricordandovi che il Lido resta sempre con voi.